Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Anche questa sera ci occupiamo di pallacanestro, sono appena rientrato dal forum dove ho assistito la prima semifinale a gara 1 della semifinale tra Olimpia Milano e Dinamo Sassari. Vittoria per Milano 88-71, prima di entrare nel vivo del video ricordatevi like se vi dovesse piacere, grazie infinite, iscrivetevi al canale e benvenuti ai tanti nuovi iscritti dell'ultimo periodo e grazie infinite per il sostegno che è dato al mio canale. Milano si porta quindi su 1-0 nella serie, al termine di un successo molto convincente, mi aspetto molto da questa serie perché Sassari ha fatto molto bene contro Brescia, è una squadra allenata veramente in maniera molto sagace da coach Bucchi, credo non avrà problemi a vincere la serie all'Olimpia, ma credo Sassari la possa mettere in difficoltà. In realtà oggi ci è riuscita soltanto relativamente, Milano ha giocato molto bene, ha trovato tantissime alternative nei suoi vari giocatori, ha tirato benissimo con delle percentuali altissime, il primo quarto non è stata una partita del tutto da play-off a mio avviso, l'intensità è andata e venuta, non è stata proprio costantemente una partita di grandissima intensità. Milano, primo quarto, porte aperte, 32-26 il punteggio, non sbagliava quasi nessuno, si è arrivava troppo facilmente a segnare sia da due che da tre e l'Olimpia in questo tipo di gioco si è trovata meglio che Sassari e questo un po' mi sorprende perché era un tipo di basket che avrei pensato potesse favorire di più la formazione di Bucchi. Secondo quarto, Milano ha stretto un po' di più, ha preso un margine di più 12 quando mancavano due minuti alla fine del secondo quarto, all'intervallo lungo si è andati però sul 50-42. Sassari è stata brava da questo punto di vista a resistere a una Milano che ha tirato col 69% da due con il 47% da tre nel solo primo tempo. Sassari ha risposto con un 48 da due e un 38 da tre. Inizio secondo tempo Sassari sembrava aver messo a posto la difesa che è stato il grande problema del primo tempo ed è partita molto intensa dopo tre minuti e mezzo coach Messina ha dovuto subito chiamare un time out con Sassari che era rientrata a tre punti. Robinson in contropiede aveva messo una tripla delle sue di pazzia senza neanche nessuno a rimbalzo sembrava Sassari rientrata nella partita e invece qui mentre nel primo tempo erano stati giocatori Heinz, il Ciaccio, Datome e Schiltz, i giocatori decisivi per la prima fuga, nel secondo tempo decisivi sono stati invece prima di tutto Melli. Melli è rientrato oggi, ha giocato otto minuti, in otto minuti ha preso sei rimbalzi di cui due in attacco, praticamente ha tenuto vivo tutti, Milano aveva un po' peggiorato le proprie percentuali di tiro ma Melli andava a recuperare qualsiasi pallone che cadeva dall'anello e in questo modo dava più possibilità alla formazione milanese che ha trovato un grandissimo Ben Venti, l'avevo letto nelle notizie pre-gara che avrebbe potuto giocare Terzeschi al posto di Venti, il meno male che ha giocato Venti per Milano perché per lui dieci punti, tre su cinque al tiro ma ha una grandissima precisione soprattutto nell'allungare il break decisivo nel terzo quarto. Poi i protagonisti che non ti aspetti, ovvero Baldasso, per lui sette punti con due su tre da tre punti, molto positivo da questo punto di vista, una buonissima partita per lui e poi Grant, Grant ha giocato molto bene, io Grant trovo che sia un giocatore di grande intelligenza e molto utile nella rotazione milanese, per lui oggi nove punti, tre su cinque da tre più quindici con lui in campo. Questi giocatori hanno dato il break decisivo, Milano ha chiuso il parziale avanti gli altri sei punti, quindi si è portato all'inizio del quarto periodo avanti per 71 a 57. È stato un po' un lungo garbage time, Milano a sei minuti dalla fine ha trovato il più venti quando Coach Book ha chiamato un altro time out e la partita poi non ha più detto niente, Milano ha vinto 17 punti nel finale vincendo anche l'ultimo periodo per 17 a 14. Rimane quindi una partita molto buona di Milano che ha tirato alla fine col 58% da 2 e il 41 da 3, partita vicina alla classica perfezione 60-40. 39 rimbalzi, 10 palle perse e 111 di valutazione. Sasseri ha risposto tirando col 47 da 2 e solo il 29 da 3 ha perso nettamente al rimbalzo 39-31. Per Milano abbiamo già detto quali sono stati i giocatori principali senza dimenticare i dati di Ains, 8 punti, 7 rimbalzi, 5 stoppate, 4 assist. Strepitoso e poi un altro giocatore da tenere sempre da conto, Hall più 23 di plus minus nei 17 minuti con lui in campo, giocatore assolutamente splendido. Da Sasseri mi è piaciuto il primo tempo di Robinson, 17 punti 6 su 12 alla fine per lui, mi è piaciuto il secondo tempo di Bilan, 16 punti 5 su 8, 6 rimbalzi ma lì sotto ha fatto comunque fatica e mi è piaciuto Benzius lungo tutta la partita, 14 punti, 4 su 6, 7 rimbalzi. Sasseri però, ed è questo che mi lascia pensare che la serie possa essere ancora viva, ha avuto 3 non pervenuti oggi, ovvero Barnell, 5 punti, 2 su 10, 6 rimbalzi, malissimo, al di là di un agonismo che ha sempre una partita negativa, Kruslin totalmente non pervenuto, 0 punti con 0 su 3 e poi soprattutto il professore Logan che stavolta in 14 minuti ha fatto 0 su 6 al tiro, non l'ha segnato mai né da 3, neanche c'è un paio di giocate da 2 veramente negative. Bene 3, 8 punti, 3 su 3, con più uno con lui in campo, però ha giocato anche nel Garbacità in finale, insomma, secondo me è una serie che qualcosa ce la può ancora dire. Sicuro Sasseri bisogna che tutti i suoi uomini giochino a un livello superiore, Milano con questa rosa infinita invece comunque ho trovato oggi una Olimpia veramente positiva. Arbitraggio, Lazzarini vicino e quarta, prima di tutto un complimento e un abbraccio a Vicino che con oggi chiude la sua carriera, un buonissimo arbitro che ha fatto sempre piuttosto bene, oggi è stato premiato prima della partita, devo dire mi ha fatto piacere vedere gli applausi del pubblico a questa premiazione, non sono sicurissimo che sia una grandissima idea però premiare prima della partita perché poi dopo ovviamente quando il pubblico non gradisce una decisione dalle parti dove ero io purtroppo qualcuno si è alzato in piedi a gridare pensionato, vattene, sei vecchio, cose di questo genere, fair play 0 e mi dispiace insomma, non va a togliere una buona arbitraggio, Lazzarini soprattutto mi è piaciuto molto, 7 Lazzarini, 7 a Vicino, 6 mezzo a quarta che si è anche infortunato, è uscito alla fine del terzo quarto e quindi hanno finito splendidamente con un arbitraggio a due, Lazzarini e Vicino in un garbage time assoluto quindi hanno fischiato pochissimo e quindi Vicino ha finito la carriera come probabilmente l'aveva cominciata arbitrando in due come si faceva una volta, arbitraggio comunque completivamente positivo, ragazzi play off cominciati, vittoria per tutte e due le due grandi favorite, la Virtus ha sofferto, l'Olimpia ha vinto più in scioltezza, però sicuramente credo che sono due serie che ancora al di là del fatto che non penso sia possibile che la finale non sia Virtus Olimpia, però sono convinto che tutte e due le serie ci possano dire ancora qualcosa, aspetto i vostri commenti con la palacanestro, l'appuntamento è domani naturalmente con gara 2 Virtus contro Tortona, intanto vi saluto, vi ringrazio, ciao a tutti e un bacio da Lox.